250? Ah no, erano 520. Oh, 5200? E tu? Sai davvero quanti ordini puoi evadere ogni giorno dal tuo magazzino? Certo, perché c'è Gulliver nel tuo lavoro. Gulliver è l'innovativo software per la logistica che controlla e gestisce la tua capacità produttiva giornaliera. Puoi infatti confrontare in tempo reale le operazioni in corso e se c'è un imprevisto o un ritardo puoi intervenire subito. Cambi le movimentazioni oppure sposti le risorse su un altro lavoro, così pianifichi meglio le tue attività in entrata e in uscita. Come dire, il giusto spazio e la giusta energia al tuo lavoro, tutto sotto controllo. Con Gulliver hai sempre un occhio di riguardo per il tuo magazzino. Scopri gli innovativi vantaggi di Gulliver, guarda gli altri video.